RLB Radioattiva abbraccia i temi caldi di Ecologia e Ambiente in collaborazione con Ecologia Oggi, azienda di servizi integrati di igiene ambientale e raccolta differenziata porta a porta. Bentrovati all'ascolto da Francesco Veltri, siamo giunti alla quarta puntata di Qui Ecologia, rubrica di RLB dedicata all'ambiente e all'universo dei rifiuti nella città di Cosenza. Anche oggi saranno tanti argomenti da trattare, ascolteremo come sempre gli interventi dei cittadini concentrandoci questa settimana sul mondo scolastico, riporteremo anche qualche intervento dei nostri ascoltatori che ci scrivono sul nostro indirizzo mail che ricordo rlb chiocciola rlb.it, parleremo poi in maniera approfondita della raccolta porta a porta ricordando anche orari e regole in generale. Faremo tutte queste cose ancora una volta insieme al direttore generale di Ecologia Oggi, la dottoressa Rita Rachele Scalise. Salve dottoressa. Salve. Allora dottoressa, le annuncio subito che non mancherà qualche critica da parte dei nostri ascoltatori, ma come lei ha più volte ribadito Ecologia Oggi non si sottrae all'elementele. Prima della pubblicità però le pongo subito una domanda, come è andata questa settimana, come è andato il compostaggio domestico, la raccolta della carta, ne abbiamo parlato le scorse settimane, c'è stato qualche problematico oppure no? Allora per quanto riguarda la raccolta della carta abbiamo avuto un miglioramento, non ci hanno segnalato declassamenti o altro, quindi ci auguriamo che continuiamo con questo trend. Per quanto riguarda il compostaggio domestico abbiamo continuato a consegnare le biocompostiere, e quindi ci auguriamo di incrementarlo sempre di più. Allora prima di continuare io manderei subito un brano musicale e torniamo a far pochissimo. RLB Radioattiva, abbraccia i temi caldi di Ecologia e Ambiente, in collaborazione con Ecologia Oggi, azienda di servizi integrati di igiene ambientale e raccolta differenziata porta a porta. Rieccoci Studio con qui Ecologia, allora insieme alla dottoressa Scalise parliamo della raccolta porta a porta, ricordando magari inizialmente il calendario delle utenze domestiche, comincio io poi continua la dottoressa. Allora il lunedì io ricordo frazione residuo, il martedì frazione organico, mercoledì frazione plastica e metalli, giovedì frazione organico, venerdì frazione carta, sabato frazione vetro e domenica frazione organico. Si dovrà esporre il secchiello marrone nei giorni previsti per la frazione organica, mentre il secchiello grigio per la frazione residuo, frazione carta e frazione vetro. L'unica frazione per la quale è prevista l'esposizione della busta azzurra è plastica e metalli. Si precisa che tutte le attrezzature sono fornite dall'azienda Ecologia Oggi, questo è sempre bene ribadirlo. Dottoressa vuole aggiungere qualcosa in merito agli orari? Sì, allora è importante fare una distinzione tra gli orari di conferimento e gli orari di ritiro. Gli orari di conferimento devono essere rispettati dal cittadino e sono i seguenti. Per quanto riguarda tutta la città, dalle 20 alle 5 del giorno successivo. Per quanto riguarda le zone del centro storico e dell'isola pedonale, il conferimento va fatto dalle 6 alle 8 del giorno della raccolta. Questi sono gli orari di disposizione o di conferimento da parte degli utensi. Gli orari della raccolta invece da parte dell'azienda Ecologia Oggi iniziano dalle 5 fino alle 11 per quasi tutta la città e dalle 8 alle 14 per quanto riguarda centro storico e isola pedonale, che sarebbe la cosiddetta zona franca, perché è una zona dove è attivo anche un sistema di premialità, il cosiddetto RFID. Noi in base a un codice riusciamo a capire se il conferimento è stato fatto correttamente o meno e i cittadini hanno diritto a delle premialità secondo delle esposizioni che fanno. È un sistema che stiamo portando avanti e siamo in una fase ancora sperimentale. Ovviamente ce ne occuperemo poi anche nei prossimi giorni, cercheremo di ribadirlo e ricordarlo ogni settimana. Andiamo subito ad ascoltare il primo intervento del giorno. La nostra Maria Teresa Improta ha ascoltato la mamma di un alunno della scuola di Via Negroni su come funziona nell'istituto la raccolta differenziata, ma non solo questo. Mia figlia che adesso fa le scuole superiore qui aveva già iniziato un progetto, l'aveva già fatto, il piccolo pure l'ha fatto. Fanno anche quello per lo spreco di energia, tipo dell'acqua, magari lavarsi i denti, chiudere il rubinetto quando si insaponano, la stessa cosa quando si fanno la doccia. No, no, la fanno. Che io sappia sì, non so se l'hanno fatta quest'anno, però negli anni precedenti sì, mio figlio fa la terza media e l'hanno fatta. E quindi fanno anche qualcosina sui rifiuti, spiegano ai ragazzini come fare? Sì, 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 perché nelle classi comunque hanno messo là i bidoncini per la carta, per la plastica, quando fanno quindi colazione, sanno dove buttare le varie cose, insomma. Gli lo spiegano qua le maestri, professoresse. Sì, sì. E poi i ragazzi quando torna a casa lo fanno, lo applicano? Sì, sì, lo fanno perché io da genitore lo faccio, cioè a casa mia lo faccio, quindi loro lo fanno pure. Ho i bidoncini colorati sul balcone e loro vanno lì e buttano le varie cose, sì, lo facciamo. Ma io lo faccio da anni, lo facevo ancora prima che iniziassero. Dove vedevo qualche bidoncino della plastica, andavo, le mettevo nella busta e le buttavo lì. Siccome tengo alla mia città, in ogni caso, vedi, a volte mi trovo delle carte, o mangio un panino, oppure il bambino mangia un gelato, non so dove buttare le carte. A volte sono sporche, ok, se pulite le metto nella borsa, ma se sono sporche, tipo un gelato, dove le buttiamo? C'era la borsa, è impossibile, quindi si butta a terra. Cioè, io evito, ecco, perché a me piace, ecco, come sono a casa, a me piace avere casa pulita e anche la città pulita. Mi darebbe fastidio, ecco, uscire e trovare la busta della spazzatura, come alcuni fanno, che la buttano fuori, così, insomma, non è da civili, insomma. Allora, dottoressa Scalisa, abbiamo ascoltato una cittadina modello, no, per certi versi. Allora, la signora evidenzia, come anche a Vienegroni, la raccolta differenziata venga fatta abbastanza bene, parla anche dello spreco di energia. Poi, altra cosa che dice la signora, a me piace avere la città pulita, così come è pulita casa mia. Sì, questa è stata la frase più bella della signora, perché dice, casa pulita, città pulita. È quello che sostengo sempre. Cosenza è come una casa, è come una casa va trattata. Cioè, nessuno di noi si sognerebbe di buttare le carte nel salotto, di buttare i rifiuti in cucina, e di buttare qualsiasi cosa in giro per casa, perché la casa la vogliamo tenere pulita, perché è la nostra, ed è questo quello che noi sbagliamo. Anche la città è nostra, quindi tutti dobbiamo tenerla pulita, la città, perché appartiene a tutti noi e noi non dobbiamo pensare solo a noi, ma dobbiamo pensare anche agli altri che vivono in questa città ed è quello che ribadiamo sempre. Il senso civico è proprio questo, rispettare gli altri, rispettare la città, rispettare le cose che sono poi di tutti. A Vienegroni c'è un progetto che funziona ormai da diverso tempo? La scuola di Vienegroni è una tra le scuole migliori di Cosenza, anche perché noi l'abbiamo anche visitato ultimamente con i tecnici del CONAI per la raccolta differenziata della carta. È una scuola che fa molti progetti innovativi e la raccolta della carta in questa scuola funziona adesso bene, nel senso che noi abbiamo delle unità dedicate che vanno nelle scuole e raccoltono la carta e ci segnalano tutte le criticità e ci hanno segnalato che Vienegroni è una tra quelle che ultimamente sta seguendo meglio le direttive. Allora noi mandiamo un altro stacco musicale, torniamo tra poco con una nuova intervista e tanto altro. Torniamo in studio, siamo sempre con la dottoressa Rita Rachele Scalise. Abbiamo sentito poco fa la prima intervista del giorno, una mamma di un alunno di Vienegroni, adesso ascoltiamo un ex insegnante che vive a pochi passi dalla scuola di Vienegroni, secondo me è un'intervista interessante. Io come ex insegnante e come educatrice noto questa cosa, perché vedendo i bambini in macchina con i genitori, presumo che a scuola le insegnanti hanno fatto la raccolta differenziata, il progetto, l'avranno sviluppato in tutti i modi, chissà come si sono prodigate, hanno portato i bambini fuori con i pulmoni, quello che ho fatto io, sono stata Tandiana a Via Derada, abbiamo fatto pure noi questa cosa. E poi tutto il lavoro fatto a scuola viene magnificato perché a casa non vengono rispettate le regole. Anche se i bambini portano i messaggi a casa, però per comodità, forse perché è un pochino difficoltosa questa raccolta che si fa, nel senso che non è che sempre si possono accumulare quelle cose in quel giorno X. Può capitare che rimane un rifiuto e qualcuno pensa di buttarle invece di tenere sulla casa. Penso però ad arrivare a sistematicamente passare con le macchine e buttare la spazzatura. Questo è il comune che deve mettere l'aria di vita e sorveglianza. È diseducativo proprio per i bambini soprattutto, perché i bambini non ci capiscono niente poi. Sono frastornati da messaggi diversi. Allora, bambini in macchina con i genitori che prima di accompagnarli a scuola buttano la spazzatura in mezzo alla strada, in posti isolati, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, cioè via Antonino Catera, che è un punto, da questo punto di vista, tra virgolette strategico, lo possiamo definire. Tutto ciò, dice la signora, è diseducativo per i bambini che rischiano di essere un po' confusi, frastornati di fronte a queste situazioni. Cosa rispondiamo? Sì, la signora è un'insegnante, penso che sia un'insegnante, si vede da come parla. E in effetti sono messaggi diseducativi, cioè in effetti non si può insegnare a scuola, perché sono sicura che nelle scuole di Cosenza fanno un'ottima educazione ambientale, insegnare a scuola, impartire queste direttive sulla raccolta differenziata e poi buttare le buste. Io credo che lì non sia proprio un problema del bambino, lì è il problema dell'adulto che comunque non è mai cresciuto, diciamo. Le dico una cosa, nelle interviste che abbiamo raccolto molti genitori non hanno voluto parlare fuori la scuola di Venegroni. Alcuni genitori dicono no, è meglio di no, perché sennò mio figlio mi ascolta e poi Mario dico una cosa e mio figlio poi dice il contrario, perché a casa non sono proprio perfetto nel fare la differenziata e vi dicendo. Ci sono genitori che la fanno bene, ma altri che la fanno meno bene. Sì, diciamo che le classi, voglio dire, la nuova generazione di genitori è in genere molto attenta, perché amano fare queste cose, hanno l'idea dell'ambiente, quindi mi sembra strana questa cosa, però se l'insegnante, la signora l'ha riferita vuol dire che accade ed è una cosa brutta, diciamo, brutta per i bambini, brutta per la città di Cosaianza, brutta per tutti noi. Mi auguro che questi genitori si possano riferire. Ecco, lanciamo questo messaggio a questi genitori, ovviamente per fortuna non sono tutti così. Allora, dottoressa Scalise, andiamo avanti, ora leggero rapidamente alcune domande, alcune anche maliziose, di un ascoltatore che ci ha scritto sulla nostra mail, si firma Ben Guil, le chiedo risposte rapide se è possibile. Prima domanda, poiché si sta dibattendo da mesi e mesi sui cumuli di rifiuti per strada senza avere dei significativi miglioramenti, non sarebbe il caso di tentare altre soluzioni? Esiste un'alternativa al porta a porta per alleviare le situazioni di emergenza per quei quartieri periferici più popolosi? Questa è la prima domanda. Allora, per quanto riguarda gli abbandoni, noi abbiamo notato un miglioramento invece, soprattutto in alcune zone. Rimangono critiche le zone dell'ultimo lotto, del centro storico e queste zone noi che cosa possiamo fare? Non possiamo fare, non abbiamo una soluzione, non possiamo fare tornare indietro, mettere cassonetti. La raccolta differenziata, la metodologia del porta a porta, è l'unico sistema di raccolta differenziata che ci consente veramente di differenziare i rifiuti. Il cassonetto, o ci mettiamo un cassonetto per la plastica, un cassonetto per gli urbani o un cassonetto per il vetro, noi troveremo comunque tutti i rifiuti insieme. E quindi che cosa facciamo? Non abbiamo i cumuli per strada, però non abbiamo la raccolta differenziata. Seconda domanda. Molte persone, residenti e non, ritengono che ad esempio nell'ultimo lotto di Via Popili andrebbero messi i cassonetti differenziati stradali e costruire così dei punti di raccolta sparsi per i quartieri più facilmente gestibili, dove i cittadini avrebbero più facilità a depositare. Ricordo che il sistema misto porta a porta, più zone servite da cassonetti differenziati, viene usato in altre città. Lei, scrive il nostro ascoltatore, in una precedente intervista aveva detto che si sarebbe fatta promotrice delle mini isole ecologiche per l'ultimo lotto di Via Popili. A che risposta ha avuto in tal senso da coloro che possono decidere? Si parla ovviamente di istituzioni. Allora, per quanto riguarda le mini isole ecologiche, dispondo subito, le istituzioni sono delle mini isole ecologiche mobili, quindi le istituzioni, ne avevamo già parlato con l'amministrazione Occhiuto, ci avevano dato già il via libera. Sono delle mini isole ecologiche che vengono posizionate nel giorno dove si raccoglie una determinata tipologia e consentono al cittadino di metterlo direttamente in questo cammo, un cassone ambientale mobile. Ma il problema di Via Popili, io lo ripeto sempre, dell'ultimo lotto, l'ultimo lotto è perfetto, cioè dal punto di vista urbanistico. È tutto lì, quindi io non riesco a capire ed ecco perché mi arrabbio, perché lì è evidente che viene buttata apposta il rifiuto. Noi siamo già stati nella prima puntata, abbiamo visitato l'ultimo lotto, c'erano delle criticità ovviamente esposte anche dai nostri cittadini, magari ci ritorneremo nelle prossime puntate perché forse è uno dei quartieri più caldi, più difficili. Io credo che le istituzioni non mi dovrebbero dare una risposta sull'isole ecologiche, casomai mi dovrebbero dare, come dire, dovrei interessarli per capire come sanzionarlo chi non lo fa. Perché l'ultimo lotto, veramente, posso capire il centro storico che c'è la scaletta, che magari è difficile per il cittadino, la persona anziata, ma l'ultimo lotto è perfetto dal punto di vista urbanistico. Quindi basterebbe soltanto che tutti mettessero il secchiello lì e darebbero un segnale anche importante l'ultimo lotto, darebbero un segnale di essere al passo con i tempi, di non essere poi questa zona periferica così distrattata, così... Certo. Comunque noi ringraziamo il nostro ascoltatore, ovviamente lo invitiamo a riscriverci eventualmente per darci ulteriori spunti, no? A me piacerebbe che l'ascoltatore ci dicesse, se lui conosce qualcuno dell'ultimo lotto, qual è il motivo per cui non lo fanno? Lavorano? Escono presto? Escono tardi? Qual è il motivo per cui non possono depositare i rifiuti ed esporli in maniera corretta? Giriamo questa domanda all'ascoltatore, aspettiamo una risposta via mail, ma eventualmente può anche venire qui in studio, possiamo parlare di gente con lui. Dottoressa, prima di chiudere, so che in settimana è stato presentato il progetto RAI Scuola, ne parleremo più approfonditamente la prossima settimana, però magari un'anticipazione ce la può dare. Sì, allora, questo progetto RAI Scuola riguarda la raccolta dei RAI, che sono rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che verrà fatto principalmente nelle scuole, dove i bambini potranno portare i piccoli apparecchi elettronici e verranno depositati in dei cassonetti che l'ecologia oggi provvederà a ritirare. I RAI è una tipologia di rifiuto particolare, sono per intenderci i frigoriferi, le lavatrici, i televisori, i tubi al neon e devono essere ritirati secondo delle precauzioni particolari. Noi in genere la raccolta dei RAI la facciamo il venerdì e la facciamo su prenotazione. Abbiamo delle persone dedicate che richiamano i cittadini per prenotarli. La raccolta viene fatta dalle 8 alle 14, il cittadino deve esporre sul suolo pubblico questo rifiuto e loro si possono prenotare telefonando ai nostri numeri, che li ripeto 0984 41 19 75 oppure al numero verde 800 400 506 o inviando un'email a cosenza-chiocciola-ecologia-oggi.it È importante perché i RAI, se non vengono smaltiti correttamente, sono altamente inguinanti. Se vengono smaltiti correttamente hanno al loro interno delle risorse preziosissime, possono contenere rame e altri metalli di questo tipo e che possono essere riutilizzati, hanno un grande valore. Noi, solo per dare un'idea, noi raccogliamo al mese 2 tonnellate di RAI. Allora, siamo in diritto d'arrivo e ringrazio anche questa settimana la dottoressa Ritala Calesca-Rise, direttore generale di Ecologia Oggi, per aver risposto alle nostre domande, alle nostre problematiche, problematiche avanzate anche, come abbiamo visto, dai cittadini e le diamo appuntamento alla prossima settimana. Allora, ricorda ai nostri ascoltatori che per qualsiasi segnalazione potete contattarci allo 0984 40 19 40 oppure scriverci su rlb-rlb.it a risentirci.